E' un'altra cosa. E' un fusto di gran turco senza spezzarlo. Non è opera dell'uomo, è troppo perfetto. Così gli alieni non ci leggono nel pensiero. Oh! In tutta la contea gli animali si comportano in modo strano, addirittura violento. E' come se sentissero un predatore in giro. Amman, Nairobi, Bangalore e Gerusalemme sono le ultime località... Lo stesso programma su tutti i canali. Su tutti i canali? E' il diciottesimo cerchio nel grano nel paese nelle ultime 72 ore. Io ho un po' paura. Tutte quelle cose in tv. Joe Gills è venuto qui a parlare della fine del mondo. Se ne stanno nell'ombra. Vogliono sondare il terreno per assicurarsi che la via sia libera. Libera per cosa? Per gli altri che arriveranno. C'è un mostro fuori dalla mia camera. Posso avere un bicchiere d'acqua? Le forze di terra vengono schierate. Sta per accadere. Non aver paura. E' come la guerra dei mondi. Credimi, passerà tutto. Non aver paura. Sono in casa. Arriva. Non aver paura. Non aver paura. Non aver paura.